Il collega è nuovo? Sì, è nuovo. Piacere. No, sì. Il tuo nome, collega? Ammedeo. Ammedeo? Sì. Io ho un amico che c'è il tuo stesso nome. Veramente? Eh, come si chiama? È una minerale. Anche per me, grazie. Ah, Ombi, ma tu lavori sempre... Ambulanti, alle feste patronali. È fatto. Che devo fare? Sì, ma io ho sentito dire che hai preso una Ferrari. Sì. E come hai fatto? Ha un incrocio. Non ho visto lo sto. Andiamo. Paolo, vai. È un giorno su sto posto. Che è stata la distrazione. Sta con il gelbrano. Fa spur freddo. Ma... Manca un termosifone qua. Nuovo arrivo? Eh, sì. Fresco. Al fresco. Ah. Come ti chiami? Eh. Sarò un bravo. Penso, non mi destino. Tutto a me. E poi, invece, a pensarci, io da ragazzo, c'avevo una strada davanti a me. Avevo studiato da ricercatore. E poi sono stato ricercato. E tanti anni mi ricercati mi hanno trovato. E mi trovo qua. E va bene. Che va bene? La vita, la vita. Su, con la vita. Eh, facile parlare, sì. Vedrai che qui nel carcere non si sta poi male. Eh, vabbè, come si fa a passare il tempo, scusi? No, vabbè, vabbè, per esempio, ti piace lo sport? Oh, no, facevo la botta. Faccio tutto che prendiamo mazzato. E allora, ogni lunedì facciamo il torneo di calcetto. Mi piace, mi piace il calcettino. Il lunedì ti piacerà? Bello, mi piace il lunedì il calcetto. Bella idea, brava. E ti piace giocare a carte? Sì, 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 come sono andato con le carte in mano, sì. Ogni mercoledì facciamo il torneo di burratti. Buono, lunedì e mercoledì. Il mercoledì ti piacerà? Sì, 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 sono d'accordo, bello, bello, bello. A riempire la settimana, capito? Senti, sei gay? Eh? A me? Ma che... No, un poco poco frocio. Ma mi piace, non giocare, guardami bene bene. A me gay. Secondo me il venerdì non ti piacerà tanto. Ehi, a te. Cusco. Ehi, volevo fare la bella cosa? Qua non ci sto bene. Cambio il bergo. Vuoi sentire? Allora, allora. Allora, uno, tre. Sì, lo sta qua dentro. Ma non lo so se è normale. Tu perché sei qui? Perché sono zoppo. Allora, essere zoppo è mica... È un reato. Eh, grazie. Però impedisci di scappare. Che dici tu? Che stai? Salve. C'è lo sacchetto? No, no. Senta, è una cortesia. Siccome ho perso mia moglie... Oh! E se può... Avete il microfono, posso utilizzare... Certo, 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 certo. Libero. Signori, sono libero. Libero. Signori, sono libero. Libero. Signori, sono libero. Sì. Sì, sono libero. Libero, sì. Davvero? Grazie, grazie, grazie. Allora, usufruiamo? Sì. E' il mio turno. Sì. E' il mio turno. Sì, è il mio torno. Sì. 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 Sì.